Uno splendido prodotto che sta di giorno, beige, tre pezzi, elegantissimo, realizzato in questo tono di beige, veramente bello, quasi un biscotto, veramente un punto di colore eccezionale, volontariamente è un tre pezzi, quindi con un gilet alto, un capo di grandissima classe, che con il gilet è volontariamente un cinque bottoni, quindi molto alto, quindi quando e se la gioca è chiusa il gilet si nota, si vede, è presente. La fodera selezionata è una fodera grintosa, che ho già mostrato in altri capi di questo colore, che secondo me è divertente, sta bene e fa parte di chi ha piacere di giocare un pochino col prodotto. E questo nel complesso è sicuramente un prodotto da giorno, di chi vuole indossare qualcosa di non troppo impegnativo, ma che comunque abbia un sapore di sartoria. Spero che l'ambito del video vi siano piaciuti, ci vediamo da Dal Sarto.